Peste suina africana, il commissario straordinario Vicenzo Caputo oggi potrebbe rendere nota la sua strategia per combattere la peste dei cinghiali e l'invasione nelle aree urbane. Arrestati a Tortona dai Carabinieri, un messicano e un romeno che rapinavano le extort e le violentavano. Proseguono le nostre inchieste nei soborghi Alessandrini, tappa oggi a Casalbagliano. Storia a lieto fine per il centro polisportivo Gerino di Ovada grazie ad un dialogo fra le parti. Ben ritrovati con la nostra informazione, lo avete sentito dai titoli. Potrebbe essere dunque oggi il giorno in cui il commissario straordinario per la peste suina africana Vincenzo Caputo renderà nota la sua strategia per combattere appunto la peste dei cinghiali e l'invasione degli stessi nelle aree urbane. Vorrebbe coinvolgere anche l'esercito e le forze dell'ordine. Dede Vinci. Giorni decisivi per conoscere le nuove disposizioni del commissario straordinario contro la PSA Vincenzo Caputo, nominato a febbraio dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per combattere l'epidemia peste suina africana, che secondo i dati diffusi dall'Istituto Zoo Profilattico ha già colpito quasi 600 cinghiali sparsi in diverse province tra Pemonte e Liguria. Il problema esiste ed è grave, soprattutto per le conseguenze economiche che subirà chi svolge attività all'aria aperta. E non solo quindi gli agricoltori, gli allevatori, i cacciatori che vorrebbero tornare ad essere parte attiva nell'abbattimento dei cinghiali. Ma le limitazioni potrebbero tornare anche per chi approfittando della bella stagione vorrebbe muoversi e svolgere attività sportive e turistiche in libertà all'aperto in quei luoghi che si trovano in zona rossa, tipo i quasi 100 comuni alessandrini, 37 in provincia di Genova, 10 comuni della provincia di Savona e ancora 6 in provincia di Asti e anche i due che si trovano fuori dalla Liguria e dal Piemonte, nella confinante Emilia Romagna, cioè a Piacenza. Le pressioni per il commissario Caputo affinché prenda provvedimenti drastici a questo punto arrivano anche dalla vicina Lombardia, ma anche dalla provincia di Cuneo che teme per i suoi vasti allevamenti suini. Secondo le ultime indiscrizioni già pubblicate, il commissario Caputo non vedrebbe di buon occhio come unica strategia quello del solo posizionamento di reti di contenimento e punterebbe a nuove strategie ed azioni coordinate per arginare l'avanzata del virus. Per l'abbattimento dei cenghiali nella zona effetta ha già lasciato intendere di voler coinvolgere l'esercito e le forze dell'ordine. La Regione Piemonte, secondo quanto ha dichiarato l'assessore all'agricoltura e alla caccia, ha chiesto la possibilità però di effettuare, con tutte le precauzioni di biosicurezza, le attività all'aperto perché l'economia del territorio arriva da tre anni di profonda crisi dovuta al Covid ed è impensabile immaginare la chiusura delle attività, senza dimenticare poi i cani, per cui l'addestramento, l'allenamento e le prove devono essere effettuate in territori idonei. La cronaca, i carabinieri del comando di Tortona hanno arrestato due uomini che dopo aver adescato le prostitute sui siti internet dedicati le rapinavano e in un caso le hanno anche violentate. Sentiamo Cristiana Zanetto. Rapinavano le escort e in alcuni casi le violentavano. Accadeva a Tortona, ma grazie all'azione investigativa dei carabinieri sono finiti in carcere. Si tratta di un romeno di 20 anni e di un messicano di 38, già arrestato il 31 marzo. Infatti, il 17 marzo scorso l'uomo di origine messicane contattava la escort attraverso un sito internet dedicato ed una volta arrivato all'appuntamento a Tortona la costringeva sotto la minaccia di una pistola la violenza sessuale mentre il complice armato, il rumeno, rapinava le altre due donne. A seguito di un'attenta attività investigativa e contattati dalle ragazze, i carabinieri si trovavano sul posto il 31 marzo, giorno nel quale il messicano di 38 anni aveva fissato un altro appuntamento con un'altra prostituta. Al momento di rapinarla aveva trovato però i carabinieri. L'uomo si era immediatamente dato alla fuga. I militari dell'arma avevano recuperato due pistole scacciacani senza il tappino rosso e due giubbotti utilizzati per le rapine che venivano riconosciuti dalle vittime. Il messicano si era reso responsabile anche di un'attentata rapina il 20 marzo, sempre ai danni di una escort. Anche in questo caso al successo dell'attività investigativa dei carabinieri ha contribuito l'appello fatto nei mesi scorsi, cioè quello di avere fiducia nell'arma e quando c'è bisogno di chiamare il 112. Confermiamo la disponibilità dell'arma dei carabinieri, ci siamo, possiamo aiutarle e prendete in considerazione che il 112 è un numero di famiglia. Se il cittadino comprende questo, indipendentemente dalla classe sociale e dalla provenienza, potrà affidarsi a noi ed è assolutamente, come posso dire, consapevole del fatto che possiamo aiutare. È un soborgo di più di mille abitanti, quello di Casalbagliano ad Alessandria, un'area quasi dimenticata dalle amministrazioni che si sono succedute negli anni con una marea di problemi che toccano soprattutto la popolazione anziana ed è proprio da Casalbagliano che il viaggio di Chetti Porceddu prosegue per toccare appunto i vari soborghi della città. Il castello che vedete è un edificio del 1200, è stata una delle prime fortezze a difesa della città di Alessandria. Ci troviamo a Casalbagliano, oggi quel castello è un rudere perché è stato dimenticato nel tempo, così come il soborgo di Casalbagliano sembra proprio che sia stato veramente dimenticato alla strega del castello. Qui c'è tanta gente oggi. Allora, partiamo dai problemi che vive Casalbagliano, partiamo dai più grandi. I problemi sono molteplici. Diciamo che Casalbagliano innanzitutto ha bisogno di servizi che oggi non ha più. Ad esempio l'ufficio postale dove specialmente le persone anziane andavano a ritirare la pensione, a fare le loro raccomandate e quant'altro, a pagare i bollettini. Oggi non c'è più, per cui non hanno neppure la possibilità di avere un mezzo pubblico perché oggi non arrivano gli autobus. Non abbiamo più dove acquistare i prodotti, come stibili o quant'altro. Qui a Casalbagliano non c'è più nulla. Ma quello che è peggio è che ci sono ancora molte aree dove mancano le fognature. E questo è via vecchia dei Bagliani dove c'è, chiamiamolo soborgo, comunque un piccolo paesino nel paese che non ha più, non ha da anni, le erano state promesse, ma mai realizzate. Per cui i cittadini continuano ad avere le famose vasche biologiche che non sono più oggi, ai tempi d'oggi, congeniali, diciamo, con quella che è l'evoluzione oggi. E poi siamo l'unico soborgo, diciamo, di tutta Alessandria dove l'unico piazzale esistente è ancora di Ghiaia. Anche le aree giochi dei bimbi è da rivedere perché non ci sono spazi per questi bambini e quella che esiste è sicuramente da ricondizionare. Abbiamo fatto come Associazione Alessandria Sud un gruppo di lavoro che sta controllando tutti questi parchi giochi dei bambini e lo portiamo alle autorità. E con le nostre spalle sentiamo il traffico, avete anche problemi di sicurezza? Sì, questo sicuramente sì, perché le macchine passano a velocità altissima, nonostante i veloz che hanno messo, però non ci sono controlli, andrebbero fatti più controlli e purtroppo bisogna dirlo più molte. Ecco, mancano anche dei parcheggi, stavamo sentendo? Sì, mancano dei parcheggi, specialmente in via tagliata, purtroppo quando ci sono le macchine parcheggiate danno anche il passaggio della viabilità, rimane piuttosto problematica. Ecco, voi siete anche stanchi, no? Perché sono tantissimi anni che denunciate l'incuria, le mancanze di questi soborghi, tante le amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso degli anni e finora non è mai successo nulla? Nulla, diciamo che non è stato fatto molto. Più volte hanno fatto sopralluoghi, abbiamo avuto riunioni, abbiamo discusso, abbiamo parlato, ma poi alla fine i risultati sono sempre rimasti gli stessi, cioè che non si riesce mai a realizzare quelle che sono le necessità per il Paese. Buone notizie arrivano invece da Ovada, dove dopo il concreto rischio di chiusura degli impianti, la transazione è firmata dal Comune e la Società Servizi Sportivi ha salvato appunto il polisportivo Gerino. Sentiamo Fabrizio Mattana. Sino che finalmente siete arrivati con un accordo per la piscina. Sì, un accordo che è un momento di rilancio, di riavvio in realtà, perché è solamente un accordo, come sapete, avete sicuramente seguito le questioni sui giornali, sui social, eccetera, è un accordo transattivo tra il Comune e la Servizi Sportivi che effettivamente dà una nuova visione, un nuovo momento di appunto rifunzionalità della piscina. Speriamo che adesso il gruppo, il Consiglio di Amministrazione, che ringrazio con tutte le società sportive, i nostri dirigenti per tutto il lavoro fatto, che siano in grado e capaci di riavviare la piscina estiva. Questo è un po' il primo obiettivo e poi il ripristino anche di quell'invernale. La Servizi Sportivi si occuperà ancora della gestione fino alla fine dell'anno? La Servizi Sportivi manterrà la gestione fino alla fine dell'anno, proprio nell'emore della costruzione di una nuova gara di appalto che avverrà in questo periodo e poi naturalmente ci auspichiamo, troverà un contraente, qualcuno che sia interessato a tutto l'impianto, con tutte le sue funzionalità di nuovo ripristinate. È stato importante il dialogo in tutta questa vicenda? È stato fondamentale, lunghissimo, complicato, mediato, come normale, una transazione complessa, in un contesto complesso che naturalmente prendeva forza dal fatto che il nostro primo obiettivo era di non chiudere gli impianti, perché sono un servizio pubblico quegli impianti, pensate ai ragazzi e ai loro campionati, piuttosto che alle persone che fanno regolarmente sport, chiuderli, come sarebbe avvenuto certamente con una contrapposizione possibile con i servizi sportivi, sarebbe stata una cosa negativa per la nostra comunità. Quindi il lavoro ha posato fondamentale, le basi su questo presupposto, non chiudere. E sono iniziati i lavori anche alla pista di atletica? Sì, la pista di atletica è un tassello di quel percorso di ristrutturazione, in realtà avevamo anche un altro progetto di ristrutturazione della stessa struttura del palazzetto, faremo invece qualche piccolo intervento, perché avremmo pronosticato di spendere altri 400 mila euro, ma al momento non è possibile, ma qualche manutenzione straordinaria sarà fatta. In questo periodo, diversamente dagli scorsi anni, abbiamo un po' di disponibilità in più economiche, di tipo inventariale, quindi per fare lavori strutturali, e li faremo diversamente nei dieci anni precedenti. Erano davvero difficili con il patto di stabilità, gli spazi finanziari, e non era stato possibile fare ciò che possiamo fare oggi. Prende il via sabato 22 aprile in Val Borbera, la rassegna musicale La Musica in Giardino. Il primo concerto si terrà a Garbagna, i successivi a Borghetto di Borbera, dove c'è un giardino botanico che contempla circa 1500 specie di piante su un'estensione collinare di 4000 metri quadrati. Un invito alla bellezza attraverso la contaminazione fra la creatività artistica umana e la meraviglia della natura. È lo scopo della prima edizione della rassegna La Musica del Giardino, organizzata in Val Borbera dall'Associazione Giardino Botanico Spinarosa di Borghetto di Borbera. Il festival musicale è ad ingresso libero e contempla otto concerti dedicati alla musica da camera, con momenti di musica corale, bandistica e camerale. I programmi descrivono un percorso floreale e naturalistico e valorizzano brani che si ispirano alla passione per il paesaggio. La presentazione della rassegna nella sede dell'amministrazione provinciale di Alessandria. Un giardino botanico, come ovvio, ha la finalità di guidare al riconoscimento delle piante. Noi aggiungiamo a questa finalità una finalità etica, estetica. vogliamo, suona ovviamente, pretenzioso ed educare alla bellezza. È questo il quarto anno che il Giardino Botanico Spinarosa ospita eventi. Questo nuovo festival verrà in alcune date accolto proprio all'interno del giardino, visitabile nelle giornate della manifestazione musicale. Altri concerti vivranno invece in altri scorci di Borghetto di Borbera. Entusiasta del progetto, il direttore artistico Massimiliano Pinna, docente di pianoforte al liceo musicale Umberto Eco di Alessandria, che nel sottolineare il legame fra estetica e cultura e il mondo naturale, ricorda il primo appuntamento in cartellone, il concerto di apertura Il Canto dei Fiori. Il primo concerto sarà sabato 22 aprile, esiterà a Garbagna, con il coro Viva il Coro del Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Il programma è dedicato a compositori italiani del Novecento, del territorio e non, con la tematica sul paesaggio. Il programma completo del festival è visitabile sul sito www.giardinospinarosa.it Un libro è stato dedicato alla processione di San Giovanni Battista, un evento che si svolge da secoli ad Ovada. Lo ha scritto Ferdinando Sciutto. Lo ha incontrato per noi Maurizio Silvestri. Allora, tre minuti dedicati a Ovada. Allora, io qua ho Ivo ed è colpa sua di tutto questo. Sì, è colpa mia. Andando con Nando, volendo portare qui in oratorio, ho detto, vieni che ti faccio vedere questo bellissimo gioiello che abbiamo qui a Ovada. Adesso vi spiego che cosa è successo. Ferdinando Sciutto, buongiorno. No, no, è un piacere di rivederti. Allora, Sciutto, noi ci conosciamo. Si è vero, vedo un bellissimo libro che dice La sfida di San Giovanni. Che cosa ci rappresenta? Allora, questo libro è difficile da raccontare, ma facile da leggere. La sfida di San Giovanni è praticamente una descrizione della processione di San Giovanni che è avvenuta nel 1944. È una parte inventata, è una parte vera. E spiega l'attaccamento degli ovadesi a questa manifestazione che è un insieme di religiosità e di credenza popolare. Raccontaci questo libro. Allora, diciamo che è tra la realtà e la fantasia. Con un colpo di scena finale che prepara per la parte finale del libro. E qui si racconta appunto della storia di questa processione che dal 1827 è stata sempre, non l'ha fermata nella Prima Guerra Mondiale e nella Seconda Guerra Mondiale. Solo il Covid purtroppo ha interrotto questa sequenza. Quindi è un racconto tra la fantasia e la realtà. Io mi sono molto divertito a scriverlo perché ho dovuto fare delle ricerche essendo io un ovadesi d'adozione. E quindi mi sono divertito e mi piacerebbe che anche chi avrà bontà di leggerlo questo libro si divertisse come me e fosse incuriosito da... Quindi divertimento e passione per scrivere questo libro. Invece per il lettore chi lo legge deve chiudere gli occhi e far andare anche la fantasia sua. Esatto, deve immaginare una cosa dove c'è la realtà ma c'è anche tanta fantasia che però fa perno su delle cose reali tipo l'abbombardamento del Ponte della Veneta ed altre cose. Quanto tempo ci hai trascorso qui sopra queste pagine? Dunque, l'ispirazione mi è venuta il giorno dopo che Ivo mi ha parlato di questo libro e quindi da lì è nato tutto il libro per scriverlo un sei mesi. Con voi ci vediamo nei prossimi tre minuti. Grazie. Siamo ora agli appuntamenti sportivi, il tennis perché si può ben definire regina del tennis Alessandrino Manu Falleti dopo la conquista della medaglia d'oro ai campionati mondiali over 40. L'ha incontrata per noi Fabrizio Mattana, sentiremo tra poco la sua intervista nel servizio. Subito dopo, come sempre, le previsioni del tempo e poi dopo di noi l'appuntamento consueto alle ore 13 in punto con il nostro approfondimento sportivo dal nazionale con il TG7 Sport. Tutte le anticipazioni legate al mondo del calcio, il calcio giocato e ovviamente, come sempre, qualche indiscrezione. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie. Grazie. Manuele, mi hai dato l'appuntamento davanti al Museo della Borsalino e vedendoti col cappello capisco ora il perché. Ma sì, dai, un'intervista un po' diversa dal solito, l'abbiamo sempre fatta al mio circolo. Sì, perché, guarda, la settimana scorsa ho avuto una settimana di influenza incredibile quando voi mi avete chiesto dell'intervista e io volevo venire invece alla presentazione del museo del Borsalino. Io adoro tantissimi i cappelli. Vedo anche un giubbotto che mi ricorda un po' il basket. Allora, sono diventata appassionata di basket, certo, e tifosissima della Bertram. Tra l'altro ringrazio Ferenz Bertocci e faccio i complimenti anche alla famiglia Gavio per quel che stanno facendo perché verrà un palazzetto incredibile a Tortona e loro hanno deciso di regalarmi un giubbotto e una felpa che mi hanno portato veramente fortuna ai mondiali. E sopra il giubbotto spiccono due medaglie d'oro. Settimana scorsa ci sono stati i mondiali senior ad Antaglia, in Turchia. Io mi ero ripromessa di non giocare tre competizioni. Poi alla fine sono una testona e sono andata contro la volontà di Fulvio Massa che mi sgrida tutte le volte perché io sono convinta di essere ancora giovane. Invece purtroppo la carta di identità e lui me lo ricordano. Però questa volta è andata bene perché Fulvio ha fatto veramente un lavoro particolare sulle mie ginocchia e sulla mia schiena. Ricordo che io ho una condropatia rotulea degenerativa di terzo grado e quindi dopo Antaglia ho deciso di non giocare più i singoli. Farò solo doppi misti e doppi femminili perché in effetti tre competizioni sono troppo lunghe. I prossimi appuntamenti saranno sicuramente la competizione a squadra con Borgotrebbia a Piacenza, la pool finale a giugno e poi qualche torneo ITF in giro, non si sa dove. Adesso vediamo le mie amiche dove riescono a convincermi. I campionati italiani a Milano Marittima e poi ci saranno di nuovo gli europei a squadra con Borgotrebbia dove noi abbiamo vinto l'argento l'anno scorso, qualche mese fa, sempre lì in Turchia. In chiusura parliamo un po' del tuo libro che sta andando alla grande. Allora il mio libro sta andando alla grande, ne abbiamo riordinati altri 50, sono contenta. Tra l'altro l'altro ieri sono andata a Monte Carlo quando mi sono un po' ripresa dall'influenza a trovare Gippo Orbino, il mio coach, gliel'ho voluto proprio consegnare di persona perché con Gippo c'è proprio un affetto particolare che ci lega. Ci saranno altre presentazioni insieme alla Mimma, Caligaris e vi faremo sapere dove. Grazie a tutti. Ci saranno insensibili, diminuzione, ad esempio sulla Lombardia occidentale non supereremo i 12-13 gradi ma ora entriamo più in dettaglio ed osserviamo cosa ci attenderà sul Piemonte. Giornata di giovedì con tempo perturbato, annuvolamenti compatti daranno luogo a precipitazioni sparse, fenomeni localmente a sfondo, temporalesco, temperature diurne decisamente più contenute attorno ai 13-15 gradi. Nella giornata di venerdì insisteranno ancora tali nubi e qualche fenomeno sarà ancora possibile principalmente sui settori montuosi ma poi torneranno delle belle schierite le temperature diurne al più acquisteranno qualche grado. Dettagli maggiori vi attendono sull'app di Trebimieti oppure consultando il nostro sito web.